Grazie a tutti L'arca, 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 su terra, su terra, bravo, forza, forza L'arca, 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 l'ar Eccolo qua! Atletica Virtus. Virtus Lucca, primo dei nostri cadetti, primo e seconda posizione, sempre Virtus Lucca. Ragazzi, ragazzi, ragazzi fuori qua! Terza posizione, ecco qua Ogemo per Atletica Firenze Marathon. Fuori, fuori ragazzi! Bene, 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 è ora quarta e quinta posizione, solo senza società, poi una volata finale per la posizione forse Atletica Prato sul compagno di gara. Siamo ancora nelle prime dieci posizioni della categoria cadetti. L'Ub, devi uscire, L'Ub! Ragazzi dovete uscire di qua dovete uscire! bene 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 i nostri cadetti stanno arrivando e questa signore e signori è l'ultima gara del Belancino Cross qui in un campogara nuovo un campogara con una partenza da quasi 100 metri ha sicuramente agevolato sia gli atleti sia anche i nostri collaboratori i nostri bravissimi giudici per questa nuova gara che sicuramente porterà anche a delle altre prossime gare del reparto Cross bene bene aspettiamo ancora i dati per la combinata e poi forse avremo anche la parte del settore assoluto maschile 14 18 39 23 13 28 siamo venite avanti 12 e ragazzi un grande agevolazione sicuramente per l'uomo un grande agevolazione sicuramente per la situazione la parte della scuola è un grande agevolazione sicuramente per l'uomo Grazie a tutti! 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 Calma, tranquilla! Stai tranquilla! Grazie a tutti! 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 bravi questi ragazzi che hanno lottato con le scarpe non chiodate bravi i grandi bravi il carcomino bravo 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 il carcomino c'è il bravo bravo il carino Grazie a tutti. 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 e a tutti. Ettore a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. ma... e a tutti. e a tutti. con... forza, capitanato, forza, e a tutti. e... con... e... e... di... e... per... e... e... per... per... e... 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 allie... e... 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 passaggio... e... 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 ... ... e... ... e... ... ... ... ... ... ... ... ...